Un duplice incidente, insomma, una disgrazia. Sarebbe questa l'ipotesi più probabile per spiegare che cosa sia successo in una villetta di via San Gaspare 24, quartiere Brecce Bianca d'Ancona. Una badante romena di 62 anni morte in bagno, con una ferita alla testa in un lago di sangue. L'anziana che assisteva, stesa a terra in cucina, trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. Questa la scena che sabato mattina si è trovato di fronte il nipote della donna di 91 anni. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio contro i gnoti, ma l'ipotesi che prevale è appunto al momento quella del duplice incidente. L'abitazione, infatti, è stata passata a setaccio dalla squadra mobile e dalla polizia scientifica di Ancona. Sul posto anche il PM Valentina Bavai non sono stati evidenziati segni di effrazione né la casa al suo interno si trovava in suo quadro. Tutto farebbe propendere gli inquirenti per la tragica fatalità. Ana Anca potrebbe aver avuto un malore tra giovedì e venerdì, cadendo successivamente a terra in bagno, battendo testa e volto contro il pavimento. L'anziana, con gravi problemi di diambulazione, non sarebbe più riuscita a rialzarsi a terra dopo essere inciampata. Sul corpo ha ferite da contusione su viso e ginocchia, è disorientata, sofferente, ma il quadro clinico generale è discreto. Non si sa ancora, con precisione, da quanto tempo si trovasse in quelle condizioni. Giovedì pomeriggio le due donne hanno aperto la porta a un nipote che portava loro alcune medicine. venerdì mattina invece nessuno ha risposto al bussare di una donna della parrocchia, sotto shock l'intero quartiere nel quale Ana Anca, che sostituiva da tre mesi una collega che era andata in ferie in Romania, si era fatta conoscere benvolere da tutti. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti insieme a uno smartphone appartenente alla badante.